Chi è lei e quale professione esercita? Allora, sono Jose Alberto Casonato, nasco come osteopata e mi occupo di neuroimmunomodulazione e nutrizione. Dal 1997 opero nel settore della salute e da circa 10 anni mi occupo di life coaching e specializzato nelle relazioni. Nell'ambito professionale la mia figura serve ad aiutare le persone, in particolare gli imprenditori e i suoi collaboratori, ad ottimizzare le relazioni e quindi ad avere i rapporti ottimali e l'efficienza ottimale dell'azienda grazie al miglioramento dei rapporti e della comunicazione all'interno dell'ambiente lavorativo e anche nella vita privata. Quali sono le strategie che il gruppo SOS propone? Il gruppo SOS è nato proprio per cercare di aiutare gli imprenditori e i suoi collaboratori ad ottimizzare tutti quei processi necessari per determinare e o raggiungere obiettivi. Lo scopo primario è quello di utilizzare un team multidisciplinare che attraverso le varie conoscenze degli individui che lo compongono, possono contribuire in maniera diretta allo scopo dell'azienda, cioè crescere e migliorare i processi di produttività. Per quale motivo un imprenditore si dovrebbe rivolgere al gruppo SOS? Un imprenditore dovrebbe rivolgersi al team SOS perché come un atleta, nonostante raggiunga il vertice nella propria attività sportiva, si rivolge ad un allenatore, ad un preparatore, a un coach per riuscire a raggiungere i propri obiettivi e mantenerli, anche un imprenditore, a mio avviso, dovrebbe avere sempre l'intenzione di crescere e di migliorare sia se stesso che la propria azienda. Pertanto un team multidisciplinare è in grado di aiutarlo sotto vari punti di vista al fine di raggiungere questo obiettivo.